se che mangia i wuster questo è qua con il suo osso ah cosa c'è nel sito e porto via l'osso di incazzi come che lo guardo se che ha tutto il tertufone è un camp baby sitter però che piace gli ossi è come i cani grossi va fuori devo parlare anche dei marchetti della che parla aiutoli tutti gli operai io devo fare i lavori anche dai marchetti lui qua il beve lui sbaglia fuori si si mette davanti il gacceo vedi che bravo il tartufone si è il suo nuovo nome adesso è il tartufone qua il beve da caldo però che buona l'acuoina si dai che seguiamo con questo eh c'è più tartufone